Siamo assistendo agli allenamenti di Iacovissi, futuro campione d'Italia. Siamo assistendo agli allenamenti di Iacovissi, futuro campione d'Italia. Questo è Valerio Iacovissi, futuro campione d'Italia. Dice che diventerà presto campione d'Italia, ma io non ci credo. Adesso però Iacovissi sta buscando perché fa con un peso superiore, però sta buscando. Guardatelo in faccia, che cattivo. Adesso Federico ci dà le botte. Ficchialo! Faglio lunga lì. Federico, faglio lunga. Vai Federico. Dai! Mamma, mamma! E lì assaglio che teitzi a batти, eh? a chi gli ho paura, a chi gli ho paura, a chi gli ho paura, non ce la faccio più però, arrivare, gira i punti, gira i ganchi, a chi gli ho paura,